Si avvia soluzione alla questione dei dipendenti OTI. Finalmente sarebbe il caso di dire. In effetti dallo scorso agosto tiene banco una vicenda solo apparentemente paradossale. I 39 dipendenti a seguito dell'attivazione della procedura concorsuale chiedono di essere licenziati e questa è l'unica strada per l'accesso alla Naspi. Negli scorsi mesi alla scadenza del fitto di ramo d'azienda dalla ITR la OTI aveva inteso retrocedere quegli stessi dipendenti all'azienda di provenienza. Una decisione rigettata con forza dall'ITR. Di qui il tira e molla tra le parti a colpi di comunicati stampa. In mezzo i dipendenti ormai senza lavoro e senza la possibilità di beneficiare degli ammortizzatori sociali. Ora la svolta probabilmente decisiva. In queste ore dalla OTI la richiesta di incontro con sindacati e lavoratori per definire la questione. Sul tavolo anche un possibile accordo sulle spettanze arretrate. Manca ancora il crisma dell'ufficialità. Tuttavia l'incontro dovrebbe tenersi mercoledì 20 dicembre a Pettoranello. Accogliamo con grande soddisfazione e sollievo questa notizia che pone fine ad una grave incertezza che pendeva sul futuro di quei lavoratori. Sono le parole di amico Antonelli della Wiltec, il sindacalista che dalle prime battute e non sempre supportato si è speso per il raggiungimento di questo risultato. Dunque per i dipendenti si prospetta un Natale con sotto l'albero una bella e da tempo agognata sorpresa. Laddove infatti l'accordo dovesse trovare la conferma dei fatti, per alcuni tra loro, oltre agli ammortizzatori sociali, la possibilità di una nuova assunzione. Da parte di un'azienda tessile dell'area Pentra c'è la manifestazione infatti di interesse a procedere ad alcune assunzioni. accettare amore。 Comunicato